ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come la conduttrice milly carlucci delega una decisione importante riguardo a ballando con le stelle milly carlucci sta lavorando per la prossima edizione di ballando con le stelle il programma che conduce dal 2005 e che ha molto successo si tratta di un talent show dove i partecipanti sono personaggi famosi da cantanti attori comici e anche sportivi che devono imparare a ballare in coppia e competere con altri ogni concorrente affiancato da un professionista e insieme si preparano alla puntata dopo ogni esibizione poi c'è la giuria che deve dare un voto la giuria può variare ogni anno ma alcuni giurati sono presenti nel programma da molti anni come guillermo mariotto ivan zazzaroni e caroline smith nella scorsa edizione c'erano anche fabio canino e selvaggia lucarelli pare che quest'anno la giuria vedrà un cambiamento importante si parla di una sostituzione per quanto riguarda selvaggia lucarelli la giornalista nella scorsa edizione ha ricevuto molte critiche in gara c'era il suo fidanzato e si sono create dinamiche spiacevoli la giuria della prossima edizione di ballando con le stelle milly carlucci ha deciso di delegare la scelta della giuria della prossima edizione di ballando con le stelle al pubblico del programma la conduttrice avrebbe condiviso la foto dei giudici e chiesto al pubblico di decidere chi deve restare e chi può lasciare il posto a un nuovo giurato la domanda che ha rivolto la conduttrice è chi confermeresti in giuria molti commenti che arrivano dagli utenti sono a favore di selvaggia lucarelli sono in tanti a volerla in giuria dato che la considerano l'unica che dà un'opinione interessante alcuni scrivono che sarebbe una grave perdita per il programma non averla in giuria altri invece vorrebbero sarà di vaira simone di pasquale e un ex vincitore di ballando delle prime edizioni dato che può mettersi nei panni dei concorrenti c'è chi vuole anche caroline nella giuria mentre per quanto riguarda zazzaroni e mariotto sono considerati quelli che fanno spettacolo e nient'altro anche se dovremo attendere ancora per conoscere tutti i dettagli della prossima edizione gli autori sono già al lavoro così come milly carlucci che in questo periodo sta anche promuovendo ballando on the road si tratta di un format che prevede milly carlucci in compagnia dei giudici ed esperti viaggiare per tutta italia alla ricerca di nuovi talenti nella danza sono aperti i casting e non c'è limite di età se siete interessati quindi affrettatevi grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video grazie a tutti 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 grazie a tutti